Ciao gutier, bentornato e bentornata. Continuerai ad assemblare il tuo computer. È il momento di altre periferiche interne. Ora è il turno di periferiche PCI. In pratica, tutte le periferiche essenziali già le hai installate, già le hai inserite, ma potresti averne acquistate altre per completare meglio il tuo computer. Potresti aver acquistato un'ulteriore scheda audio, se ad esempio quella integrata non ti sondispa, una scheda USB se magari la tua mainboard non ne possiede a sufficienza, oppure una scheda FireWire se devi effettuare dei montaggi video. Normalmente, queste periferiche che ti ho appena evidenziato utilizzano ad oggi delle interfacce denominate PCI. Una alla volta, quindi, le collegherai ai rispettivi slot. Prima, però, devi liberare la zona di accesso alla periferica, in pratica rimuovendo la letta di metallo presente sul case, in modo da poter far fuoriuscire il connettore di accesso della periferica stessa. Una volta che hai liberato questa letta, prendi singolarmente una scheda PCI, posizionala nei pressi dello slot e, quando più o meno ad occhio comprendi di aver raggiunto l'allineamento tra lo slot e l'interfaccia della scheda, premila verso il basso fino a renderti conto che la scheda è arrivata abbattuta. Ora, con un giravite, prendi una vite di serraggio e blocca la letta di metallo al cabinet del tuo PC e passa quindi alla successiva. Scheda dopo scheda, ripetendo questo passaggio, avrai terminato l'installazione delle periferiche interne al tuo PC, ma ancora non sei pronto per accendere il computer. Comunque, che dire? Vai alla grande! Bravissimo! Andiamo adesso ad inserire eventualmente un'ulteriore ventola ausiliaria che ragionevolmente avrai acquistato. Questo con lo scopo di migliorare il condizionamento termico interno al case in modo da tenere quanto più bassa possibile la temperatura dei componenti interni. Innanzitutto, afferra la tua ventola ausiliaria e guarda sulla scocca se fosse presente un indicatore di flusso d'aria, una freccetta. Questa freccetta di norma ti permette di evidenziare la direzione dell'aria in modo da indirizzare l'aria dall'esterno verso l'interno o viceversa. Il tuo scopo normalmente sarà quello di prendere aria calda dall'interno e gettarla fuori, aria calda fornita dal tuo dissipatore della CPU e quindi indirizzarla al di fuori del cabinet. Quindi, prima cosa, prendi quattro viti e blocca la ventola grossolanamente alla griglia metallica per poi serrarla, come ben sai, indirizzando la freccia del flusso d'aria, quindi verso l'esterno. Prendi ora lo spinotto di alimentazione della stessa e vai ad individuare sulla schiera madre l'equivalente spinotto per fornire corrente alla tua ventola. Questo spinotto è simile a quello che è utilizzato per il dissipatore del processore della CPU. avrà una serigrafia tipo Cha-Fan, Chassis-Fan o Power-Fan o qualcosa del genere, come qui evidenziata più o meno in figura. Quindi, trova questo spinotto e collega senza paura il connettore relativo alla ventola. Terminata questa procedura, vediamo cos'altro c'è da collegare. Nella fattispecie, i cavi che provengono dal frontale del cabinet ed eventualmente anche delle porte USB frontali dello stesso. Infatti, troverai all'interno della scatola della scheda madre alcuni fili di vario colore o, ancora meglio, potresti trovarli già presenti all'interno del cabinet provenienti proprio dalla zona frontale e quindi dovrai sostanzialmente collegarli, individuando sulla scheda madre, i rispettivi piedini. Quindi, tali fili sono normalmente riferiti a porte USB presenti sul frontale del tuo cabinet e anche all'interruttore di accensione, al pulsante di reset del computer, ai led di stato di accensione di lavoro del disco rigido sempre presenti sul frontale del tuo cabinet e all'altoparlante interno al cabinet. Il tuo compito, quindi, sarà collegare uno per uno questi fili al corrispondente piedino. Ma iniziamo. Afferra lo spinotto oppure i fili dell'altoparlante se sono forniti come unico connettore. Trova l'equivalente spinotto o i piedini presenti sulla scheda madre che avranno, se rigravato la sigla, speaker o un'abbrevazione di tale sigla affinché l'altoparlante interno funzioni. Non è in questo caso specifico determinante badare molto alla polarità ma comunque per ottimizzare meglio i collegamenti dovrai far riferimento ai colori dei fili stessi. Per esempio, prendi il colore rosso che normalmente indica il polo caldo e vai a collegare questo filo al piedino serigrafato, ad esempio, con il simbolo più ed il filo nero al corrispondente piedino indicato con il simbolo meno. Ora, prendi lo spinotto delle eventuali porte USB presenti sul frontale e cerca sulla mainboard, sulla scheda madre qualche sigla etichettata con la serigrafia USB con dei numeri accanto. Prendi questo spinotto che normalmente presenta una guida con un piedino mancante all'interno ed inseriscilo nel corrispettivo presente sulla scheda madre. Potrai collegare tante porte USB dal frontale in base al numero di fili che provengono dall'interfaccia frontale stessa e sarà sufficiente ripetere la procedura appena evidenziata individuando altri piedini con la serigrafia USB presenti sulla scheda madre. Un discorso a parte, invece, da farsi sugli altri fili presenti all'interno del cabinet. Non ti spaventare! Nella migliore delle ipotesi, troverai tutti questi spinotti raggruppati in un unico connettore. Qualora invece non fosse così, non preoccuparti. Andrai a collegarti il singolo spinotto. Questi fili saranno evidenziati con la sigla Power Button o Power Switch, Reset Button o Reset Switch, Power LED positivo e negativo e Hard Drive LED. In pratica, lo spinotto Power Switch proviene dall'interruttore di accensione del tuo computer e lo andrai a collegare al corrispondente piedino con questa serigrafia. Lo spinotto Reset Switch proviene dal pulsante di reset del tuo computer, ossia quel pulsante che premerai qualora il tuo computer rimanesse bloccato. I cavetti Power LED, invece, provengono dal LED che viene ad illuminarsi quando il tuo computer è acceso. Mentre lo spinotto Hard Drive LED proviene dal LED di stato del tuo disco rigido, ossia dal LED del lavoro del tuo disco rigido. Nel caso in cui si è stato fortunato e ha tutti questi spinotti raggruppati, individua sulla scheda madre la sigla Panel 1 o F-Panel. In questo caso sarà sufficiente collegare questo spinotto come unica soluzione all'interno di questo connettore. Nel caso invece non si è fortunato, cominciamo a collegare i singoli fili. Sarà un po' più ostico, ma ce la faremo. prendi lo spinotto di accensione Power Switch. Andrai nella zona serigrafata con la sigla Panel 1 e individua gli equivalenti piedini serigrafati con la sigla Power Switch. Non devi fare altro che collegare questo spinotto seguendo la polarità. Nello specifico per la polarità dovrai prendere il filo, qualora fosse nero o bianco, e collegarlo al corrispondente piedino indicato con la sigla GND oppure con il simbolo Meno. Mentre il piedino di colore rosso o arancione lo collegherai o direttamente alla sigla Power Button o Power Switch oppure se è riportato invece il simbolo più. Ora prendi i due piedini con la sigla Power LED. Troverai scritto Power LED più e Power LED meno e quindi dovrai collegare questi due fili ai corrispondenti piedini presenti sullo spinotto Panel 1. Lo spinotto evidenziato con la sigla Reset Switch dovrai collegarlo ai corrispondenti piedini che troverai accanto a quelli che hai già collegati. Quindi rispettando come sempre la polarità individua la scritta Reset e la sigla GND. Infine ci rimane di collegare lo spinotto indicato con la serigrafia Hard Drive LED, HDD LED. Come sempre individua la serigrafia equivalente accanto agli altri piedini che avevi appena collegati inserisci quindi questo spinotto rispettando la polarità come hai fatto in precedenza. Una nota a margine riguarda i colori della protezione dei fili infatti potessi trovare anche colori diversi sui fili che abbiamo appena evidenziato ma non deve essere un problema per te in quanto grazie all'usilio del libretto di istruzioni della schiera madre e evidenziando la serigrafia della schiera madre stessa riuscirai sicuramente a risolvere il problema. Nella prossima lezione concluderà la trattazione dei componenti interni ed inizieremo i collegamenti dei componenti esterni. Ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima!